Buongiorno, benvenuti a questa tribuna elettorale della TGR con i presidenti delle coalizioni e candidati alla presidenza della Regione Lazio. Allora, salutiamo i nostri ospiti, grazie per essere venuti e salutiamo anche chi ci sta ascoltando sulle frequenze di RAI Radio 1. La prima domanda è quali sono i punti principali del vostro programma, anche le vostre priorità in caso di vittoria. Stefano Rosati con la lista Riconquistare l'Italia. Il nostro obiettivo è porre di nuovo al centro dell'ordinamento giuridico la Costituzione del 48 e quindi il nostro è un intervento a tutela e in difesa della Repubblica Italiana che è stata mortalmente colpita dalla restaurazione liberista, dai principi di deregolamentazione dei flussi, di circolazione di capitali, servizi, merci e persone, dai vincoli di bilancio che impediscono un intervento pubblico nell'economia serio, attuativo dei principi fondamentali della Costituzione della piena occupazione. Di conseguenza il nostro obiettivo è, pur dovendo muoverci in ambito regionale all'interno di un vincolo esterno estremamente rigido, di spostare l'asse nei servizi pubblici essenziali, noi ci opponiamo fermamente alla privatizzazione dei servizi pubblici, ci opponiamo alla dismissione del patrimonio immobiliare della Regione e riteniamo che assolutamente, in nessun caso, i servizi pubblici possano rappresentare un'occasione di profitto per i privati. Per fare questo riteniamo che sia fondamentale che i servizi vengano gestiti in modo diretto dalla pubblica amministrazione, questo sarà l'unico modo per garantire servizi adeguati per tutti e un'occasione anche di sviluppo di un'occupazione stabile. In questo momento solo il pubblico può garantire un'occupazione stabile. Allora abbiamo sentito i temi dell'ambiente, il tema dei trasporti, passiamo a Stefano Rosati. Sì, noi riteniamo che sia fondamentale evitare gli effetti nefasti della concorrenza anche nei servizi pubblici, quindi ad esempio nei trasporti riteniamo sia assurdo e dannoso per i cittadini che i trasporti, ad esempio ferroviari, siano in concorrenza con quelli su ruota. Di conseguenza ci proponiamo di far sviluppare forme di integrazione ai servizi di trasporti, perché questo è più funzionale l'esigenza dei cittadini. Assolutamente ci proponiamo di evitare la costruzione di nuove strade, come ad esempio la Roma Latina, perché l'utilità è tutta da dimostrare, mentre ci sono ben quattro strade, quelle strade del mare che sono tra le dieci strade più pericolose d'Italia, e quindi proponiamo di utilizzare i fondi previsti per la costruzione di altre strade per mettere semmai in sicurezza queste strade. Gli obiettivi di integrazione tra i servizi della mobilità nell'interesse dei cittadini si possono ottenere solo laddove ci sia pianificazione e gestione diretta. Ai privati non interessa fare un beneficio ai cittadini. Per i rifiuti il principio è sempre lo stesso, tutte le discariche sono di privati, la Costituzione prevede la possibilità di espropriarli, questo è un interesse della cittadinanza ed è un costo enorme mantenere i privati. Noi ci proponiamo di utilizzare lo strumento dell'esproprio, delle discariche, questo è nell'interesse dei cittadini, di far svolgere la gestione dei rifiuti tutto all'interno della Regione Lazio, questo è il nostro obiettivo. Allora, prospettive per il futuro, per l'innovazione, la formazione, sono tanti gli argomenti sul campo. Stefano Rosati. Noi, chiaramente lo sviluppo dell'occupazione è un tema che ci sta particolarmente a cuore, perché la Costituzione si fonda sul lavoro. L'obiettivo che avevano i costituenti era quello di utilizzare tutti gli strumenti possibili e principalmente l'azione dei pubblici poteri per far sviluppare il lavoro. In questi anni, noi riteniamo sia sotto gli occhi di tutti, le politiche di sostegno all'offerta hanno fallito clamorosamente, le start-up sono solo una fonte di ulteriore debito. Noi ci proponiamo assolutamente di impedire nuove forme di indebitamento dei giovani che poi normalmente consumano risparmi e accumulano delle famiglie, quando ancora invece c'era reddito prodotto all'intervento pubblico dello Stato nell'economia. Bisogna fare in modo che una pubblica amministrazione che ha di nuovo trovato la sua stella polare nella Costituzione sia in grado di intervenire mettendo a riparo le piccole imprese, le medie imprese dagli effetti nefasti della concorrenza col grande capitale finanziario. Si è acclamato all'apertura di grandi centri come Amazon e altri grandi centri che hanno ridotto il tessuto produttivo a un deserto, hanno creato solo disoccupazione, povertà, miseria. Noi dobbiamo cambiare completamente strada. Basti pensare all'importanza che ci sarebbe semplicemente sugli effetti del territorio consentendo, rendendo di nuovo utile alle persone che hanno un po' di terra, che hanno qualche piccolo frutteto, di prendersi cura di questi piccoli possedimenti. L'agricoltura è la miglior forma di tutela per il territorio. Allo stesso modo quindi dobbiamo tutelare il piccolo, tutelare le piccole e medie imprese mettendole al riparo dagli effetti devastanti che sono stati creati dalla libera circolazione dei capitali. Per fare questo ci vuole più Stato, più Regione. Grazie a tutti.